Dopo tre giorni con zero casi, torna a innalzarsi la curva del contagio da coronavirus in Molise. Ci sono tre nuovi positivi. Tutti fanno riferimento a cluster conosciuti. Si tratta di una persona di Isernia, parente dell'ultimo positivo accertato la scorsa settimana. Ci sono poi una persona di Campolieto e una di Termoli. In questo caso non si tratta dell'operaio Fiat, risultato positivo invece al test sierologico e che è ancora in attesa dell'esito del tampone. Sono tutti in isolamento domiciliare. Infatti, dall'ultimo bollettino ASREM, la situazione dei ricoverati al Cardarelli di Campobasso risulta immutata. Ci sono nove degenti, tutti in malattie infettive, quattro della provincia di Campobasso, cinque di quella di Isernia. Quindi tre tamponi positivi sui 251 processati nelle ultime 24 ore. E in totale i test effettuati dall'inizio della pandemia sono 7.604. Il totale dei casi attuali è 176, mentre sono 301 quelli complessivi. I guariti risultano sempre 78. I positivi isolati a domicilio sono 167. 25 le persone asintomatiche dimesse. I soggetti in isolamento sono 337. Infine, le visite a domicilio tramite le unità speciali 155. 189. 357. �� IFILLA. 55. 55. 55. 55. 66. 65. 55. 66. Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbымbbbbq.bbbblbk.bbbbbl.bbbl cadmQbbbb.bblk . 66. 66. Grazie a tutti